Era il 26 luglio di 200 anni fa, quando un terremoto colpì l'Alto Molise. A Yelzi il sisma miracolosamente fece poche vittime. Indiscutibilmente Sant'Anna, la cui ricorrenza cadeva quel giorno, aveva protetto il piccolo centro. Nacque così, in senso di ringraziamento verso la Santa Madre di Maria, la Festa del Grano. Nel corso dei festeggiamenti, la figura di Sant'Anna viene accompagnata dai lavori fatti con le spighe, con gli steli di grano, con i chicchi accuratamente lavorati e fatti messaggio di bellezza in artistiche composizioni. Sentirsi parte di una storia che ha profonde radici nel passato ed è proiettata nel futuro non può non ispirare comportamenti responsabili. Anche da qui nasce il progetto della Scuola del Carro, finalizzato a promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza dell'arte di lavorare il grano, al fine di conservare e tramandare una tradizione bicentenaria, estremamente sentita e radicata nei cuori e nella cultura yelsese. Nelle radici del passato si trovano le fondamenta dell'avvenire, con evoluzioni continue ma in maniera inequivocabile legate a quel tremendo sisma del 1805. in leaves di senso se non rilassi. Ecco bene.